un minuto compadre più dai luoghi del convento di san giovanni rotondo nell'orto nell'orto dei frati dei cappuccini di san giovanni rotondo per leggervi in questa giornata una lettera che il giovane cappuccino sacerdote di pietrelcina scrive al suo padre spirituale nonché ministro provinciale padre benedetto nardella da san marco illamis il primo novembre del 1913 come ci raccontano i curatori dell'epistolario abbiamo l'epistolario numero uno padre pio a padre benedetto fa una relazione sulla sua reazione di quiete di assorbimento in dio di conoscenza della divina grandezza e della propria miseria è una bella lettera che vi esorto a leggere perché lui racconta quella che è la sua maniera ordinaria della sua orazione e scrive non appena mi pongo a pregare subito sento che l'anima incomincia a raccogliersi in una pace e tranquillità da non potersi esprimere con le parole i sensi restano sospesi ad eccezione dell'udito il quale alcune volte non viene sospeso però ordinariamente scrive padre pio questo senso non mi dà fastidio e debbo confessare che anche se a me intorno si facesse del grandissimo rumore non per questo riesce a molestarmi menomamente da qui capirete che poche sono le volte che riesco a discorrere con l'intelletto spesse volte poi mi accade che in certi momenti nei quali il continuo pensiero in dio che è sempre in me presente mi si allontana un po dalla mente mi sento allora in un tratto toccarmi dal nostro signore in un modo assai penetrante e suave nel centro dell'anima che il più delle volte sono costretto a versare delle lacrime di dolore per la mia infedeltà e di tenerezza per avere un padre così buono e così attento a richiamarmi alla sua presenza altre volte scrive ancora padre pio al suo padre spirituale invece mi avviene di trovarmi in una grande aridità di spirito sento il mio corpo in una grande oppressione per tante infermità sento di essere impossibilitato a potermi raccogliere e fare orazione per quanto buono desiderio io ne avessi questo stato di cose vanno sempre più intensificandosi che se non ne muoio è un miracolo del signore quando poi piace al celeste sposo delle anime por termine a questo martirio mi manda in un subito una si fatta devozione di spirito da non poter in modo alcuno resistere e lui scrive ancora mi trovo in un istante del tutto mutato arricchito di grazie soprannaturali talmente ripieno di fortezza da sfidare tutto il regno di satana scrive padre pio è quello che so dire a questo di questa orazione sia che l'anima sembra essere perduta tutta in dio e che essa profitti in tali momenti più di quello che potrebbe fare in molti anni di esercizio con tutti i suoi sforzi allora padre pio poi questa lunga lettera quello che a noi piace qui sottolineare in conclusione e che dice che molte altre volte mi sento compreso da un impeto assai vehemente mi sento tutto struggere per il dio sembrami proprio morirne e tutto questo nasce non da qualche considerazione ma da una fiamma interna scrive padre pio una fiamma interna che un amore tanto eccessivo che se dio non mi venisse in aiuto a breve andare ne sarei consumato grazie a tutti